Siamo con mister Canistra del Busalla. Allora mister, direi un risultato che alla fine accontenta tutte e due le squadre, un pareggio anche perché come si era messa. Siete partiti diciamo bene nel primo tempo dal ventesimo in avanti, avete fatto gol e avete avuto parecchie occhiazioni. Nella ripresa un po' meno, avete subito il Molassana all'inizio, però poi avete recuperato e diciamo l'espulsione di un vostro giocatore alla fine ha rovinato un pochettino la partita. Sì, credo di sì che l'analisi sia quella giusta e penso che ci possa stare. Io non sono molto soddisfatto dell'atteggiamento della mia squadra, questo sicuramente è da rivedere con le settimane. La partita dove noi dovevamo prendere i tiapputi, se volevamo rimanere aggrappati a quelle in alto, così non è stato. Quindi credo che poi il punto sia giusto. Ok, grazie mister e in bocca al lupo per le prossime partite.